Si intensificano gli incontri tra le varie istituzioni coinvolte nell'organizzazione della Dunata Nazionale degli Alpini in programma nel mese di maggio a Pordenone. Oggi in prefettura i vertici della Polizia Municipale Comunale hanno illustrato ai responsabili degli enti le linee guida del piano della viabilità cittadina, locale e dei territori limitrofi. L'assessore comunale Bruno Zille illustra i contenuti dell'incontro. Abbiamo trattato soprattutto i temi della viabilità ma poi più in generale tutti i temi legati alla sicurezza proprio perché di competenza fa riferimento alla prefettura. Noi come amministrazione comunale abbiamo predisposto un piano che riguarda sia la viabilità sia il commercio sia tutti gli aspetti di carattere organizzativo. Oltre a questo è chiaro che si inseriscono anche tutti gli altri piani, il piano sanitario, il piano della sicurezza per quanto riguarda i visili del fuoco e anche la sanità. Abbiamo fatto il punto della situazione, chiaramente questo comporterà tutta una serie di misure che andranno a coinvolgere anche i comuni limitrofi e quindi anche il resto della provincia. Questo fa sì che nelle giornate della donata tutto si possa svolgere nel modo migliore possibile.